Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di RumbleStars arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di questi nuovi lasciate un hashtag RumbleStars con sotto i commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi su RumbleStars il gioco che sto cominciando a far apprezzare a molti di voi e questa cosa mi piace dategli una possibilità ragazzi perché è molto più divertente anche di Clash Royale stranamente a me la mio parere andiamo direttamente ad aprirci le casse, grazie signor spara tutto, che l'abbiamo ripreso tra le mani assolutamente ok andiamo invece a prendere anche il baule d'oro perché è giusto così vai, mina gallina, dinamitarda, generale, molotov e palla di fuoco ok, buono ho rimesso nel mazzo palla di fuoco ragazzi che mi avete consigliato e ho rimesso anche il signor, mi ricordo mai come si chiama, signor spara tutto perché voglio andare un po' più aggressive allora abbiamo anche il baule d'argento, valle di ghiacci, divisione 3 da riclamare, gratuito ok, ottimo, generale, molotov e anche un pochino di soldini che sono buoni per fare i potenziamenti allora ancora c'è quell'evento brutto che ancora non passa io sono no shiba e speriamo che passerà molto presto e andiamo a giocare immediatamente ragazzi non perdiamo tempo oggi volevo portare via Harry Potter non so se dopo uscirà un altro video di Brawl o uscirà un video di Harry Potter potrebbe uscire un video di Harry Potter ragazzi non mi sta laggando ragazzi wow, ho potuto fare la carica del colpo senza problemi ok vai Coccodilo, sei tutti noi fatti valere Coccodilo vai, tira una bella gol a secco proprio pulito pulito ok, sinceramente non voglio usare contro Gallina Dinamitarda ho fatto una cavolata ragazzi potrebbe fare gol con i triceti oppure posso fare così e ammazzo tutti i triceti ciaoone mi sono rimasti i miei triceti sono un po' scarsi però qualche volta il gol lo sanno fare anche i miei infatti l'hanno fatto non si sa come ok oh oh, ho sbagliato peccato, peccato, peccato poteva andare molto bene invece girati niente, il mio lupo è furbo come un bradipo i bradipi si sa sono molto furbi, vero? no dai, la scimmia la odio raga, la scimmia la odio io tantissimo è da non credere la scimmia quanto può essere fastidiosa ragazzi, è da non credere passa la palla al panda per favore che sta là niente, gnafa dai che stai là fallo sto maledetto gol nulla l'avrà tirata forse dieci volte raga l'ha tirata dieci volte sicure fai gol, fai gol oh, vittoria di triceti sì, che goduria pure Mordoghino ogni tanto vittoria di triceti più 30 e me prendo pure il reclamo a vincere due partiti che non abbiamo preso nell'ultima nell'ultimo video signor spara tutto grazie e palla di fuoco proprio quello che ci serviva no, non faccio amichevoli oggi mi dispendiamo avanti siamo un po' in ritardo con i video ragazzi quindi oggi vado diretto con le partite per la scalata e per fare un po' di trofei perché effettivamente questo sicuramente sarà uscito a mezzogiorno e non alle 11 se non l'avete ancora visto comunque vi invito ad andare a vedere il video di oggi di Brawl Stars dove abbiamo fatto vedere la skin di Spike Automa che è molto bella a mio parere poi su gusti giustamente allora abbiamo questo maledetto lupo che infasterisce tigre ok mi piace la palla di fuoco tirata in quella maniera mi poteva anche stare sinceramente però l'hai tirata un po' male ok no, non è un gol ok i triceti sono stati colpiti male e sono ancora vivi ma guarda i suoi triceti no regà dai no questa è è qualcosa di buggato penso eh dai i miei triceti non lo faranno mai penso ma proprio mai allora una bella botta su quella rana che va giù che è un piacere e poi mando dei triceti secco ci proviamo dai vediamo un po' se i triceti si svegliano oh ci sono riusciti non so come ci sono riusciti ok olle eh no per sbaglio ho invertito la situazione vai triceti i miei triceti si sono svegliati oggi che fortuna era ora no grazie andiamo andiamo il gioco continuiamo i triceti si sono svegliati ragazzi è un miracolo ah no ho tirato i coccodilli sui triceti lo sbaglio della vita non si fa mai perché si le ammazzi i triceti ma ci metti dieci anni quindi non conviene proprio mai farla no cose del genere allora ci ho provato col panda ma non mi è riuscita la situazione peccato oh 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 ma ancora ma quanto dura molotov regà no no mu fa gol mu fa gol lo sento lo sento eccolo basta ok vai tigre che sei lì niente c'ha poca vita non ce la farà mai bam sul lupo mi piacerebbe far gol così non te lo permetto vai bella fatto ottimo ottima diagonale il nostro avversario o non sta giocando no sta giocando ma probabilmente non aveva una soluzione logica a quella problematica ah peccato 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 sinceramente posso andare anche io no ho sbagliato no no dai ok spara ok ho levato i suoi triceti ottimo ottimo fate gol nulla hanno girato un po' storto mi dispiace eccoli eccoli che ci riprovano nulla non è nelle loro righe perfetto hanno fatto gol però finalmente ok proviamo a fare così perfetto no devo stare attento qua perfetto andata andata allora no si è messo in mezzo il cane regà il cane è un po' tardino che è rimasto su molotov oltretutto ok i suoi triceti stanno impazzendo e questo è buono per me oh non è vero non lo farete il gol mi disp e c'ho i miei triceti a difendere non potrai fare gol non ci credo che fai gol se fai gol così mi arrabbio ecco appunto I'm so sorry non lo farai si si 13 no ci potrebbe pure riusci però eh sto cercando di difendere qua davanti ma la vedo un po' daura ok ho sprecato la mia difesa contro i triceti però metto la mia situazione contro i triceti dovrebbe andare bene eh ho sbagliato i triceti possono fare gol adesso però c'è il cane che potrebbe darmi una bella zampa sinceramente ho due panda ragazzi due panda che bello due panda no ma ho fatto il gol ce l'ha fatta regà poca miseria mi hanno fatto un gol no ho sbagliato lo fanno lo fanno lo fanno dai no due a due adesso no ti prego ti prego no ok ci posso anche no dai no il lupo non può essere incastrato così da dei triceti è da non credere sta cosa eh ti piacerebbe ok no non ci sono riuscito eh volevo fare una cosa fatta bene oh cavolo cavolino cavolino di bruxelles no non mi ha sparato storto perchè ha sparato così regacio boh problemi logistici vai vai triceti vi prego fatemi la vittoria triceti vi scongiuro nulla niente triceti per noi e niente che gli dico oh gol gol perchè era impegnato sull'altro pallone gg che fortuna apri baule grazie punti per i triceti ottimo ragazzo ghiacciato che abbiamo tolto panda pigrone generale molotov che non uso ok non è andata per niente male io direi di farci altre partite perchè oggi siamo on fire ragazzi oggi ce la possiamo fare ok partirei subito di crocodile no non partiamo di crocodile ma partiamo di palla di fuoco e già è una cosa migliore a mio parere allora cagnolino no perchè regà no ma il panda io non l'ho lanciato le scatole ste cose quanto odio i bug della fava no ma non la passa a panda però eh cagnolino ormai è pronto col panda quindi va avanti così lui allora direi di prendere subito tigre e eliminarla così vado a tirare pure qualche colpo al suo re invece no perchè giustamente mette cannone perchè è furbo boom e smezziamo anche il suo coso là eh però così stiamo un attimo inguagliati ah triceti su triceti soluzione estrema gol gol che non si sa com'è successo non si è capito ragazzi non si è capito assolutamente allora potrei fare anche così triceti rivanno rifanno gol oh i triceti impazziti ragazzi c'ho i triceti impazziti eh no no invece si ho sbagliato io potrebbe fare gol ragazzi non l'ha fatto per nostra fortuna la possiamo chiamare solo così oh canterata scimmia canterata vai triceti siete voi i miei pazzi oggi siete i miei pazzi ragazzi niente mi ha canterato come giusto che sia vai tira panda bella panda tocca a te no niente non ce l'hai fatta peccato la posizione era giusta per carità vai passa panda vai fai gol bella vittoria col panda così quanto ce piace quanto ce piace ragazzi ok siamo per arrivare a valle di ghiaccio 2 e usa signor sparatutto 10 volte nella partita e io potrei anche farne un'altra dai facciamo un'altra così uso sparatutto e prendiamo pure quel coso lì allenico ma che è italiano ne sai che è italiano raga guarda ma ci facciamo battere dall'unico italiano che abbiamo incontrato nelle partite anche se la mia tigre sta impazzita ragazzi c'ho la tigre che era impazzitissima ok diamogli una zampa eh nulla peccato ok stavo cercando di counterarci non che non gli sia riuscito però allora direi di spingere tutto verso di là lupo fai gol ti prego fai gol bellissimo proprio da davanti la faccia no questa è brutta si tu boom elimino tutto aia ma ha fatto pure lui la stessa cosa ok vai tigre vai tigre stai là stai là lo devi fare per forza tigre non ci credo che non lo fai vai vai tigre nulla tigre ci ha provato ma non gli riesce no l'ha fatto l'ha fatto che l'ha fatto ditti che l'ha fatto ditti che c'è riuscito allora cagnolino insegue cagnolino e prova oh c'è riuscito porca zozza se c'è riuscito ok a questo punto direi di andare di crocco eliminagli i tigre subito perchè sennò potrebbe diventare una grande minaccia ok prova ad andare di tigre di nuovo anche se poteva andare di triceti che forse era più comodo ok palla finta tirata un po' male dal nostro avversario giustamente boom oh oh questa è stata una bella action del nostro avversario ragazzi veramente una bella action tanto pericolo sinceramente allora potrei anche fare così se il cagnolino si sveglia abbiamo una possibilità e invece no non si è svegliato no ma counterato raga mi ha fatto gol eh si non potevo mettere niente a terra avevo tutto occupato allora andiamo di tigre che magari passa a panda passa a panda fai gol da lì no che cuore che c'ha sto tizio vai non c'è più nessuno oh tigre vince e portiamo a casa anche la vittoria contro l'italiano all'emico grazie 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 e reclamiamo anche la cassa più 46 ragazzo ghiacciato potenziato tigre ottimo va bene ragazzi queste erano i partiti di oggi a ramblestarts arriviamo a 300 like condividete il video schiede al canale se no lasciate il hashtag ramblestarts sotto il momento vi ricevo un cuoricino e dopo non so se uscirà questo tipologia di video quindi tipo brostarts oppure se uscirà un video di harry potter perché potrei aver fatto un harry potter ragazzi andiamoci vediamo nel prossimo video